Grazie 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 guarda, poi è da pulire, fiema più fatice guarda, guarda, guarda guarda, guarda, guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guard Grazie. 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 Questa è... Questa è che questo... Si, mi interessa! Vai. Era... Se hai un pastore... Quelli in pastro... grazie a tutti Grazie. Qua c'è... C'è acqua sopra? Sì. L'acqua non è sopra. L'acqua non è sopra. E che c'è giù? L'acqua non so. Può essere l'acqua non è sopra. Qua c'è giù? Ah, Paolo! Ma non è che sopra camminava sulla gallegna superiore e qua si butta su quella risorsa? Può essere. Secondo me, sì. Siete chiederti che di fronte ho spruito completamente? Qual è difficile? Sì. Ma quanti mesi saremo da dentro? Viste la cacciata? Sì. No, è... Sì. E l'acqua vive per su. Sì. Potete mettere che la gallegna è superiore. Però qua non ci basta. Sì. 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 Sì.